Dalla Santa Casa di Loreto, trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dalla Santa Casa di Loreto preghiamo il Santo Rosario e l'Angelus in comunione con tutti coloro che pregano con noi da casa, attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Madre del Buon Consiglio per i giovani, il suo sì, nella Santa Casa, ispiri il giusto discernimento per accogliere il disegno che Dio ha su ciascuno di loro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'Angelo del Signore portò l'Annunzio a Maria ed è la concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ave, piena di grazia. Ave, Vergine Maria. Ave, piena di grazia. Ave, Vergine Maria. Nel primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù nel Giordano. Pater nostro, quiesi in cielo, santificetur nome in Tum, adveni ad renium Tum, fiat volontà tua, sicut in cielo e in terra. Pane nostro, quotidianum da nobis odie, ed imite nobis debita nostra, sicute nos nimitibus debitoribus nostris, ete nos inducas in tentazione, se libera nostra malo. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, grazia plena. Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena. Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena. Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena. Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena. Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena. Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena. Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena. Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena. Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena. Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, Nei secoli, nei secoli. Amen. L'ho dato sempre sia, in Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel secondo mistero della luce contempliamo il miracolo di Gesù alle nozze di Cano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli, nei secoli. Amen. Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del Regno di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo renno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli, nei secoli. Amen. Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, Nei secoli dei secoli. Amen. Glorie al Padre, al Giile 6, Vì al Padre, al Padre. Mater misericordiae, vita dolce do, estes nostra salve. A te clamamos, exudes fili leve, a te suspiramos, lle mentes e flentes, in a lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, e los tuos misericordes oculos, a nos converte. Et jesum benedictum fructum ventris tui, nobis, posto crexili un ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre di misericordia, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre della Speranza, prega per noi, Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi, Madre sempre Vergine, prega per noi, Madre Immacolata, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, Madre ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudente, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Prega per noi, Specchio di Perfezione, Prega per noi, Sede della Sapienza, Prega per noi, Fonte della nostra gioia, Prega per noi, Tempio dello Spirito Santo, Prega per noi, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Prega per noi, Dimora Consacrata a Dio, Prega per noi, Rosa Mistica, Prega per noi, Torre della Santa Città di Davide, Prega per noi, Fortezza inespugnabile, Prega per noi, Santuario della Divina Presenza, Prega per noi, Arca dell'Alleanza, Prega per noi, Porta del Cielo, Prega per noi, Stella del Mattino, Prega per noi, Salute degli infermi, Prega per noi, Rifugio dei peccatori, Prega per noi, Conforto dei migranti, Prega per noi, Consolatrice degli afflitti, Prega per noi, Aiuto dei cristiani, Prega per noi, Regina degli angeli, Prega per noi, Regina dei patriarchi, Prega per noi, Regina dei profeti, Prega per noi, Regina degli apostoli, Prega per noi, Regina dei martiri, Prega per noi, Regina dei confessori della fede, Prega per noi, Regina delle vergine, Prega per noi, Regina di tutti i santi, Prega per noi, Regina Regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Perdonaci, Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Ascoltaci, Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il Tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna, con la Sua vita, morte e risurrezione. A noi che, con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri, concede di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo, nostro Signore. Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio. Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Pagina 12 Preghiera per la pace di Papa Francesco Insieme O Maria, il popolo fede ti chiama, aurora della salvezza. Madre, apri spirali di luce nella notte dei conflitti. Tu, dimora dello Spirito Santo, ispira vie di pace ai responsabili delle nazioni. Tu, Signora di tutti i popoli, riconcilia i Tuoi figli, sedotti dal male, accecati dal potere e dall'odio. Tu, che a ciascuno sei vicino, accorcia le nostre distanze. Tu, che di tutti hai compassione, insegnaci a prenderci cura degli altri. Tu, che riveli la tenerezza del Signore, rendici testimoni della sua consolazione. Madre, Tu, Regina della pace, riversa nei cuori l'armonia di Dio. Amen. L'angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Scenda su di noi, sulle nostre famiglie, soprattutto sui giovani e sulle persone ammalate, la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. In questo Tempio Santo, a te, Madre, noi veniamo, pien di fede e di speranza, come l'angelo ti salutiamo. Ave Maria. Ave. Ave Maria. Ave. Ave Maria. Ave. 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 Ave Maria. Ave. Ave. Ave Maria. Ave. 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 Ave Maria. Ave. Ave Maria. Ave. Ave Maria. Ave. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Abbiamo trasmesso, dalla Santa Casa di Loreto, l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela Quella fiamma sarà il segno della tua fede Della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana